Avrebbe pronunciato frasi inopportune, poi avrebbe toccato il seno di una alunna undicenne che, scossa da quanto accaduto, si sarebbe rivolta a giugno scorso ad una sua insegnante, ai genitori e poi insieme a questi ultimi alle forze dell'ordine. A essere agli arresti domiciliari è un docente di scuola media a cui è stato contestato il reato di violenza sessuale sul minore, sulla base della misura cautelare eseguita dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato di Caltanissetta. Emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Nisseno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dal racconto della undicenne ha poi avuto seguito una delicata attività di indagine e l'ascolto della vittima alla presenza di una psicologa esperta, come voluto da parte del GIP in sede di incidente probatorio. Ad essere ascoltati anche i compagni di classe e così, visti gli esiti delle attività investigative della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero ha richiesto la misura degli arresti domiciliari per prevenire l'eventuale ripetersi di episodi come quelli che sono la base di questa vicenda processuale di cui si attende l'esito.